ciao amici benvenuti nel canale oggi mi è arrivato un pacco a sorpresa mandato da gridi web gridi web ciao gridi allora eccolo qua il pacchettino di cosa si tratta lo voglio aprire con voi naturalmente ho partecipato una live che aveva fatto gridi e tra tutti quelli che hanno partecipato alla sua live ha fatto un'estrazione un'estrazione che ho vinto io un'altra ragazza e quindi lei gentilmente mi ha mandato il premio che sono curiosissima da vedere è questo i beccucci eccoli da fare con anche la sac a poche e i beccucci sono quelli tedeschi giusto questi qua dunque uno allora gridi io li avevo già questi beccucci però mi mancava queste misure mi mancava questi di questo tipo che belli mi mancavano questi praticamente con la sua sac a poche ti ringrazio molto di questo graditissimo regalo sono contenta di aver partecipato alla tua live sono contenta di avere vinto ringrazio gridi web lascio il suo link sotto nel mio canale nell'info box vi invito a iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti attivate la campanella notifiche e un like me lo regalate un like vi ringrazio vi saluto ciao al prossimo video ciao ciao ciao